buongiorno benvenuti la rassegna stampa di oggi mercoledì 20 gennaio 2021 siete su fano tv canale 17 del digitale terrestre tra poco vedremo i giornali che abbiamo selezionato per voi li commenteremo e poi vedremo anche le previsioni del tempo prima però andiamo a guardare il calendario del giorno e del giorno vediamo il santo di oggi oggi è san sebastiano e fabiano allora adesso andiamo a vedere il sole sorgerà alle 7 40 tramonterà alle 17 04 vedete come si allungano le giornate andiamo a vedere il tempo oggi secondo la protezione civile delle marche avremo un cielo inizialmente sereno poco nuvoloso con addensamenti soprattutto in montagna dalle ore centrali del pomeriggio però aumento della nuvolosità verso la fascia costiera attenzione perché i venti oggi saranno sud occidentali di vento moderato sui settori interni dove le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca poi invece brezza tesa lungo la fascia costiera vediamo domani domani il tempo cambia un po come vedete dalla tarda mattinata avremo precipitazioni sparse in montagna localmente anche nel corso del pomeriggio verso la fascia costiera il limite delle nevicate però sarà intorno ai 1700 1800 metri sempre nei settori di montagna avremo ancora vento di burrasca per venerdì 22 invece la pioggia sarà la protagonista di questa giornata con precipitazioni diffuse soprattutto a livello interno deboli al mattino più intense invece durante il pomeriggio quando le piogge si estenderanno anche al resto della regione quindi anche sulla costa d'eccezione come si può vedere dalla dall'anconetano il limite delle nevicate sempre i 1600 1700 metri ancora venti forti soprattutto all'interno con venti di burrasca l'intero fine settimana vedrà condizioni di tempo di maltempo anche se debole con nuvolosità tratti estesa e precipitazioni più concentrate sempre nel settore interno della nostra regione nel corso di questa rassegna stampa oggi parleremo anche di nonna filomena che ha compiuto 106 che ha 106 anni e che ha vinto la sua battaglia contro il covid vedremo qualche dettaglio tra pochissimo tra poco allora adesso la prima pagina del corriere adriatico edizione di pesero la fotonotizia è per le palestre e le i titolari hanno chiesto un incontro in comune a pesero sono tutti ormai al palo fermi da molti mesi la situazione comincia a diventare davvero complicata medici vaccinati troppo pochi l'allarme dell'ordine del raffronto con le altre province si parla anche nelle pagine interne dei test a scuola risponde a ricci il l'assessore alla salute la sanità saltamartini poi nelle marche è ancora in calo l'incidenza dei positivi ma anche ieri ci sono state purtroppo altre 15 vittime poi quattro mesi per il waltzer dei dirigenti in regione c'è questa rivoluzione ma d'altra parte cambia la bandiera e solitamente cambiano anche i protagonisti e quindi una legge per riorganizzare si legge da zero la macchina regionale la giunta acquaroli si è data quattro mesi di tempo per approntare la rivoluzione interna che porterà al turnover nei ruoli dirigenziali 12 servizi in cui 11 in scadenza a fine mese passando anche per una modifica normativa volta a snellire l'apparato di palazzo raffaello poi maxi risarcimento vent'anni dopo il parto in ospedale a pesaro poi si spaccia come avvocato si spacciava come avvocato però intascava i soldi dei clienti e poi sempre a fano invece un un commercialista è finito ai domiciliari accusato di frode capitale della cultura pesaro punta al 2024 dopo ancona un altro capoluogo si candida venerdì la presentazione con il programma mentre dal carlino di pesaro eccola qua nonna filomena con i guantoni da box è stata contagiata ricoverata ce l'ha fatta a 106 anni mette capo il covid io dice lei ascolto i medici poi la scuola scuola ora c'è anche il ricorso altare il comitato per la riapertura avvia la battaglia giudiziaria intanto prof e studenti si parano per lunedì le altre notizie sempre dalla prima del carlino sesso sfrenato i vicini chiamano il 113 perché fanno troppo rumore la polizia interviene a villa fastigi di pesaro poi impugna la pistola contro i condomini un 70 78enne finisce a processo basta dad didattica a distanza i nostri figli meritano altro è la lettera di una mamma di due ragazzi pesaresi di 16 e 18 anni e scrive appunto per provare a far breccia nel cuore di chi ha potere decisionale poi l'analisi di pompili che è l'epidemiologo della regione la ripresa delle lezioni a proposito di scuola dice mi preoccupa e poi lo sport la vl respira non ci sono altri positivi nel nel gruppo e poi capitale della cultura ora tocca a pesaro dopo il k o di ancona candidatura per il 2024 e poi a fano evasione fiscale arrestato un commercialista la buona notizia è quella che i contagi sono in diminuzione questo perché per effetto del lockdown di natale gli esperti lo avevano detto quando ci sarà questa questo questo blocco soprattutto riferendosi alle giornate rosse che abbiamo dovuto passare durante le festività natalizie gli effetti li vedremo soltanto dopo la metà di gennaio ed ora nelle marche si cominciano a vedere questi effetti queste misure restrittive generalizzate hanno portato ad un leggero ma significativo beneficio quindi l'incidenza dei positivi continua a scendere anche se purtroppo le vittime sono ancora troppo alte 15 il numero delle vittime troppo alto 15 migliora intanto il quadro epidemiologico resta invariato quello degli ospedali la percentuale del 20 per cento per i nuovi contagi tra l'altro c'è anche una donna di 37 anni di falconara che è morta intanto i medici medici che ancora non tutti hanno deciso di vaccinarsi l'ordine è in allarme i dati sono bassi dice il presidente dell'ordine dei medici della provincia di peso urbino battistini il raffronto è tra pesaro e le altre province che hanno percentuali più elevate sono numeri che invitano dice battistini tutti alla riflessione fra i non vaccinati però c'è anche da dire che ci sono le dottoresse in gravidanza e quanti hanno già contratto il virus e quindi mantengono una buona risposta in termini di anticorpi intanto il corriere ricorda anche pubblica anche la notizia di un breve di un insegnante della scuola primaria di borgo santa maria siamo sempre nel pesarese che si accorta di avere i sintomi del covid mentre era in classe e dopo aver verificato di non sentire più odori e sapori ha effettuato subito un tampone rapido ed è risultato positiva la conferma successiva ha portato poi la docente in isolamento e ovviamente la classe in quarantena il botta risposta tra ricci il sindaco di pesaro e l'assessore alla salute alla sanità della regione marche filippo saltamartini questa mattina trova spazio sul corriere adriatico il titolo screening per gli studenti saltamartini dice ricci semplifica un po la fa troppo semplice in sostanza semplifica tutto saltamartini nega le giocenze e ribadisce la priorità delle vaccinazioni allora cerchiamo di capire questo questa situazione che si è creata tra la regione e il comune di pesaro intanto dice saltamartini l'idea dei kit quelli con i test antigenici rapidi che sono stati comprati a milioni nel dalle marche l'idea che di questi kit che sono in magazzino e che sono lì che potrebbero finire al macero perché in isubero questa idea è sbagliata noi abbiamo ordinato due milioni di test dice saltamartini ma li acquistiamo in base alle esigenze non c'è nulla che rischia di andare al macero il servizio sanitario regionale non ha le risorse professionali per ripetere uno screening esclusivamente per gli studenti di pesaro in sostanza ricci che cosa ha detto se avanzano questi test dateceli che facciamo gli screening i test a tutti gli studenti prima di tornare a scuola e messa così potrebbe essere anche una idea una idea di buon senso come scrive tra l'altro anche silvia sinibaldi questa mattina sul corriere adriatico però cosa dice cosa risponde appunto saltamartini se il comune di pesaro ritiene di essere in grado in via precauzionale scusate di essere in grado in via autonoma di eseguire un test con volontari con tutte le incombenti esigenze di protezione dei dati sensibili con i vari problemi di assicurazione del personale utilizzato insomma con tutto quello che ne concerne è un fatto che non convolge però la regione come istituzioni e silvia sinibaldi dice ricci però rivendica una proposta di buon senso che la regione non considera perché proviene da un altro schieramento come dire ricci della centrosinistra del pd la regione è di colore azzurro quindi centrodestra risponde saltamartini beh sinceramente per ricci mi pare sia solo una questione di visibilità politica e questa non coinvolge la missione affidata dalla legge dalla costituzione alle regioni se davvero ci sarà un rallentamento alla allora potremmo prendere di nuovo in considerazione l'ampliamento mirato degli screening cioè qui saltamartini dice dopo aver partecipato ad una riunione con boccia e speranza sulla distribuzione dei vaccini e su un possibile rallentamento anche nella distribuzione qui nella regione marche dice noi al momento con l'obbligo di conservare il 30 per cento delle dosi vaccinali per i richiami siamo ci siamo fermati se davvero ci sarà un rallentamento allora potremmo prendere di nuovo in considerazione il ritorno agli screening come dire non ci fermiamo ma continuiamo ad andare avanti sulle palestre invece le scuole di ballo anche qui su pesaro c'è una richiesta accorata un appello accorato al sindaco al comune di un incontro anche perché la situazione per i gestori di queste attività sportive è molto davvero preoccupante reclamano agevolazioni e reclamano anche sostegni economici è stato chiesto un incontro con il comune come già avvenuto per le altre categorie però insomma pare che al momento sia tutto fermo qual è la richiesta principale tagliateci almeno le tasse qualcuno proponeva lo abbiamo sentito insomma mi pare che fosse carriera ieri in senato chiedeva questo anno bianco fiscale cioè dove possibilmente ecco di evitare di pagare tasse e quant'altro intanto a proposito di tasse e balzelli insomma c'è la notizia anche qui una buona almeno notizia che la siae ha deciso di prorogare a fine aprile i termini per il pagamento dei compensi per gli abbonamenti annuali per la musica d'ambiente è stata così accolta la richiesta presentata da conf commercio anche sempre sul corredo adriatico anche per chi frequenta o vuole frequentare le biblioteche a pesaro c'è questo articolo dove vengono segnalate le nuove modalità per usufruire appunto delle biblioteche si entra su prenotazione con presenze contingentate e comunque in piena sicurezza sempre attivo poi il prestito a domicilio da ieri porte aperte ma su prenotazione con ingressi contingentati appunto in tutte queste biblioteche che il Corriere pubblica questa mattina sulle pagine interne sul ritorno a scuola abbiamo detto si sta discutendo e qui c'è sul Carlino di Ancona un'interessante analisi fatta dall'epidemiologo Pompili Marco Pompili che è l'epidemiologo della regione Marche sullo stato delle emergenze e sulle prospettive future Pompili fa parte del Gores che è il gruppo operativo regionale per l'emergenza sanitaria e quindi ha assolutamente titolo per poter parlare in modo assolutamente scientifico e Pompili si dice preoccupato però per il ritorno sui banchi di scuola degli studenti a ottobre dice contagi quadruplicati tra i ragazzi in autunno infatti l'incidenza nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni era passata in 12 giorni soltanto pensate da 91,1 a 347 casi su 100.000 quindi un escalation davvero preoccupante e secondo lui insomma questo rientro a scuola forse un po' prematuro ma comunque Filomena ecco qua Filomena è questa dolce nonnina che vedete nella fotografia e che ha 106 anni classe 1915 è risultata positiva 20 giorni fa dalla residenza sanitaria di Sant'Angelo in Vado è stata trasferita a Macerata Feltria poi le dimissioni i familiari dicono sì è un po' stanca adesso è costretta un po' a letto ma insomma ha i soliti occhi belli vispi vitali ora non a Filomena vive da qualche anno come abbiamo detto Sant'Angelo in Vado a un certo punto ha contratto anche lei come purtroppo altri ospiti in questa casa di riposo ha contratto il virus da qui è partito il trasferimento all'ospedale di Macerata Feltria dove i medici vista anche la veneranda età l'hanno seguita con particolare simpatia ha avuto soltanto un po' di febbre nessun bisogno di ossigeno supplementare e una capacità incredibile di ripresa così come hanno detto i medici e sarà come dice Andrea Angelini nel suo articolo sicuramente la tempra robusta delle donne della montagna dell'Appennino quelle di una volta pensate che nonna Filomena fino alla soglia dei cento anni faceva sia la pasta fatta in casa e soprattutto andava personalmente a zappare il suo orto nel giardino di casa insomma nel pezzettino di terra quindi insomma una donna da altri tempi verrebbe da dire e quando le si chiede come è possibile riuscire a scampare a due pandemie due guerre mondiali e ad un alluvione Filomena non ha dubbi dice ho sempre fatto una vita sana pochi dolci e rispettato sempre quello che diceva il medico e se lo dice Filomena che sconfitto il covid a 106 anni è doveroso crederle con buona pace dai negazionisti e Novax. Numero covid esteso a otto comuni siamo sulla cronaca di Vallefoglia qui il numero è quello di telefono che è stato lanciato da Urbino e che adesso serve anche altri otto comuni l'idea è stata lanciata appunto da Urbino che fa scuola si aggiungono quindi Monte Calvo, Mercatello, Petriano, Peglio, Urbagna, Borgo Pace, Sant'Angelo Invado e Fermignano. A questo telefono risponde un dottore alle chiamate di chi è in isolamento domiciliare fornendo chiaramente indicazioni. Allora il numero è 338 lo vedete qua 40 56 602 è il numero di telefono attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 però è rivolto soltanto ai malati che sono in isolamento domiciliare che per qualche motivo si trovano in difficoltà in quanto non hanno ancora ricevuto indicazioni dal proprio medico o non sono sottoposti, stati sottoposti ancora a tampone e quant'altro. Quindi insomma per non andare a entrare nel panico c'è questo numero di telefono che può servire ed essere certamente d'aiuto. Allora fiamme e distribuzione qui c'è una novità questa mattina ricorderete ne abbiamo parlato anche noi in rassegna proprio il giorno in cui purtroppo è divampato questo grande incendio al porto di Ancona all'ex Tubimar. Ora la svolta dei periti, il rogo è doloso dove c'è la mano dell'uomo dietro a questo spaventoso incendio. Sono le conclusioni alle quali sono arrivati i consulenti nominati dalle ditte all'interno dell'area colpita. I muletti sono stati ritrovati con i serbatoi aperti e sono tre i punti d'innesco che hanno provocato il grande incendio. Torniamo nelle cronache locali. Maxi frode, siamo a Fano, milioni di euro riciclati all'estero, arrestato un commercialista fanese, la finanza indaga su ipotesi di associazione delinquere per la commissione di gravi reati fiscali. Sotto invece è tornata a parlare la centralina di via Montegrappa, bellocchi tace, polveri sottili, già registrato il primo sforamento. Sempre su questa vicenda, su questa notizia di cronaca, il Carlino titola evasione fiscale, arrestato commercialista. Si tratta di Giorgio Indrio, 72 anni, con studio a Fano. Ieri la Guardia di Finanza gli ha notificato il provvedimento e il sequestro di tutto. I magistrati Lombardi hanno scoperto anche un giro di fatture false per 268 milioni. L'iniziativa poi presentata ieri Fano Cammina, rivisitata in chiave divulgativa, nove incontri per parlare di salute. Tra i vari appuntamenti, particolarmente interessante, quello trattato giovedì 4 febbraio alle 17 dalla psicologa Cinzia Pugliè, sul tema dell'infodemia, ovvero la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni che rendono difficile orientarsi. Una vera e propria epidemia di fake news. Ora, sulla pagina invece 16 del Carlino di questa mattina, da Fano, sempre Aset, il titolo Il piatto piange. Pronti 336 posti blu, parcheggi nel 2020 incassati 150 mila euro di meno. L'azienda rispolvera il progetto sulla trasformazione a pagamento di zone nella zona del mare, cioè a Lido e alla Sassonia. L'intervento previsto l'anno scorso si fermò per le proteste degli operatori economici, che chiaramente riprenderanno non appena si comincerà a mettere mano alla vernice blu. Ai cittadini, ai turisti, va consentita però la possibilità di sostare facilmente. Quindi ci sono delle agevolazioni. Poi si parla anche di nuovi punti luce, quindi dei famosi, insomma, i lampioni. Un incarico milionario ad Aset, integrato il contratto con l'amministrazione. Nell'accordo ci sono anche interventi di manutenzione. Poi il Comune di Fano mette all'asta le bici rubate per donarle. Il Club Mattei le ha acquistato, ora gli darà una rinnovatina, le sistemerà e poi le regalerà. Andranno quindi all'asta e il ricavato servirà per fare beneficenza. Case popolari, irregolarità da sanare. Per i 5 Stelle di Fano, tempi troppo ridotti, periodo inopportuno e discriminazione tecnologica. Mentre, sempre da Fano Corriere Adriatico, voragini, degrado e sosta selvaggia. Gymcane a rischio per gli autisti degli autobus. Insomma, i percorsi e ostacoli della linea 2, la più utilizzata dai fanesi, tutti attendono la rotatoria di Rosciano di Fano. Tonelli, dice l'assessore, a giugno finanzieremo l'opera con l'assestamento di bilancio. Poi ancora sulla ciclabile Fano Urbino, sul tracciato scontro frontale. Dopo il video di Seri, torna in auge la polemica sulla distanza della pista ciclabile dalla sede dei binari. Che chiaramente poi, se la fanno troppo vicina, questa pista ciclabile poi va a finire che non si può più riaprire la linea ferroviaria. Perché non ci sono poi le distanze di sicurezza. Anche il Carlino, Fan Urbino, sul ripristino. Aria d'intesa però col governo. Nell'incontro tra il governatore Acquaroli e il presidente della commissione, lavori pubblici coltorti, ci si è accordati sulla necessità di preservare il sedime. I consiglieri Ghirlini dicono perché il comune si incaponisce rischiando di perdere i finanziamenti. E poi se la gente se ne va dall'interno, quindi dalle zone, dai paesi dell'entroterra, è colpa del trasporto pubblico. La denuncia è di Giovanni Giovanelli della Cisla di Fano che dice niente pullman per esempio nelle giornate di domenica e nei festivi. E addirittura per i ragazzi arrivare a scuola è un'odissea. Pensate che uno studente di Pergola per esempio per andare a Urbino si alza alle 6.30 e non torna a casa prima delle 4 del pomeriggio. La cronaca di Pesero si accascia e muore in casa. La trova il marito, è stata trovata morta in casa intorno alle 5 del pomeriggio dell'altra sera. Si chiamava Maria Primavera, aveva 64 anni, sposata, senza figli di Monbaroccio. A dare l'allarme è stato il marito che rientrando ha visto la donna stesa nel corridoio con un rivolo di sangue al volto. I carabinieri però escludono cause violente. Probabilmente questa ferita è stata provocata dalla caduta. Capitale della cultura ora tocca a Pesero, pagina 11 del Carlino. Dopo la sconfitta di Ancona contro Procida, la città lancia la sua candidatura per il 2024. Venerdì la presentazione. E ancora dai quotidiani, Urbino, i nostri vaccini sono bellezza e cultura, fitti già ridotti ma serve aiuto statale. Così il segretario della Confcommercio che dice l'amministrazione è attenta, chiederemo un confronto sulla sicurezza. Poi attenzione perché ci sono i lavori domani nella rete idrica di Urbino, sul Corriere troverete l'indicazione di quelle che sono le vie interessate appunto a questi lavori. Poi cardiologia ancora chiusa ma risultano 9-10 positivi, foschi sull'ospedale, i dati non sono aggiornati, la marina militare qui non si è mai vista. Sempre da Urbino però il Carlino, cibo e inquinamento scoperte da uno studio urbinate. La nostra università coordina un progetto europeo sul settore alimentare. In Europa ogni anno ci sono 90.000 morte premature per le varie contaminazioni. Poi il caso politico dopo le accuse di Lega e Scalbi per il contratto SVIM. Cangini, non mi dimetto, ottima scelta stare con l'omday. E ancora, questa volta dalla Val Metauro, siamo a Fossombrone, laboratorio analisi trasferito a Fossombrone solo prelievi, la scelta per problemi di personale. Il sindaco dice sono intervenuto, adesso aspetto le risposte, poi fanno cammina, la salute trasloca sul web, l'iniziativa bloccata dal Covid riparte con nuovi incontri online. Da Mondolfo, in controtendenza, la popolazione cresce ancora, il comune si assesta al quarto posto per abitanti dopo Pesero, Fano e il comune di Vallefoglia. Sotto invece Marottese, assolto dall'accusa di incendio colposo, stava cambiando una bombola e partì una fiammata. Da Senigallia, Tari, niente aumenti alle famiglie, più investimenti su scuole e strade. Il sindaco Livetti ha incontrato i sindacati in vista del nuovo bilancio, il rebus degli scontri alle imprese. Poi l'infrastruttura, il nuovo ponte di Senigallia, il cantiere resta fino al 15 di febbraio, la pietra della pavimentazione sul lato di Via Carducci dovrà arrivare infatti dall'Albania. Sequestrato un allevamento con 850 cani, erano ammalati, rinchiusi e maltrattati. Tre castelli, blitz dei carabinieri forestali, riscontrato un focolaio di brucellosi, 5 le persone indagate. Si apre invece a Senigallia una voragine e uno ci finisce dentro, è rimasto anche ferito, a Marina di Montemarciano. L'erosione provoca ulteriori danni scavando sotto la strada, scatta il monitoraggio dell'area. E con questa informazione, con questa pagina, chiudiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.